anche di allenatori, perché tu ne hai avuti tanti, importanti, abbiamo citato prima quelli alla Lucchese, in quel Cagliari c'era Mazzone, che poi ha avuto anche a Bologna, molti lo raccontano come una figura paterna, se te ti dovesse venire un flash di Mazzone, come lo racconteresti e qual è un episodio che magari noi non conosciamo, che ci puoi offrire qui su Instagram? Allora, intanto era una persona, come hai descritto te, oltre a livello di capacità, è sbarcato anche su Instagram, devi sapere, quindi io adesso lo seguo anche su Instagram. Lui, oltre a essere un allenatore capace e anche un motivatore, perché va riconosciuto che lui riesce a ottenere dai propri giocatori di più di quello che possono realmente dare. Quindi è una dote che pochi allenatori hanno, perché devi scavare nel giocatore, anche a livello psicologico, e devi anche capire dove ti può dare il giocatore, a volte gli devi dare la barota, la carota, a volte gli devi dare il bastone. E a me aveva capito che con il bastone riusciva a ottenere di più. Infatti mi diceva spesso, aspettami, chiudi sto compasso! Voleva dire, fai la diagonale, perché a livello difensivo, lui mi diceva che mi dovevo applicare di più, perché in fase propositiva ero ritenuto anche da lui un giocatore di grandissime qualità. In fase difensiva dovevo sacrificarmi di più e fare la diagonale. Quindi io c'ho ancora l'eco, quando giocavo vicino alla panchina, c'avevo sempre... Mettaricchio di sto compasso! No, ti faccio complimenti perché parli benissimo in romano da Toscana, è fantastica questa cosa. E poi diceva... Hai anche una carriera come imitatore, oltre come partecipante ai reality e come ex calciatore. Sì, vabbè. E poi mi diceva sempre, palla lunga non è mai corta. Quindi 1-3, perché lui suddivideva 1-2-3. 1 la fase difensiva, 2 il centrocampo e 3 la fase d'attacco. Quindi... Gioca su Kenneth! C'era Anderson, no? 1-3! 1-3! No, perché lui la spizzicava e comunque poi avevamo gli esterni che erano molto bravi ad andare dietro la linea della palla e mettevano in difficoltà la linea difensiva, senza tanto fraseggio e preparazione dalla difesa come giocano adesso, che dal portiere la giocano, per carità, bellissimo a vedersi tutto. Però era molto meno dispendioso, perché l'errore prima o poi il difensore, o uno dei quattro o dei cinque che giocava, perché a volte giocavamo anche riflessi, no? Con i tre e i due che giocavano sulla fascia. Adesso sono chiamati i quinti, no? Però sono più centrocampisti che difensori fluidificanti. Assolutamente sì. Poi a me è una cosa che ha molto colpito di Mazzone, che due eccellenze del calcio, come Pep Guardiola e Roberto Baggio, quindi non è che stiamo parlando proprio di due qualunque, caro Stefano. Eh no. Beh, ne parlano ancora oggi bene, tant'è che poi Guardiola lo ha invitato anche a vedere allo stadio la finale di Champions che disputò da allenatore con il Barcellona, tant'è che poi Mazzone rimase anche stupito di questo. Cavolo, tu sei Guardiola, ti vai giocare una finale di Champions e farsi a Carletto Mazzone. Questo la dice grande sull'umanità di cui abbiamo parlato. Guarda, persona straordinaria, ma non sono l'unico a dirlo, come mi stai dicendo tu, persone che lo stimano, chi l'ha avuto ne parla benissimo e continuano a parlarne bene. Io mi ricordo che ero a Firenze dove allenatore era ancora tra pattoni e avevamo una squadra di signori campioni, perché comunque era la Fiorentina che è arrivata, mi sembra, terza in campionato. Prima avevamo Malesani, poi arrivò tra pattoni. Era l'anno di Edmundo, Battistuta, Rui Costa, Kancelsky, Kois, Padalino, Repka. Cioè, voglio dire, era una Fiorentina di tutto rispetto. Se non che tra pattoni decise di comprare, perché aveva avuto al Borussia Dortmund, Ayrich, se ricordi, terzino sinistro, che era un destro adattato a sinistra. Lo pagarono... Me lo ricordo bene, me lo ricordo bene. Non lo posso dire qui, poi te lo dirò in privato, sono anche che gli ha gestito quella trattativa. Ma guarda, sono sicuro che lo sai, perché sei molto preparato e me ne hai dato dimostrazione a più riprese. Però fu pagato 15 miliardi dalla Fiorentina. E quindi io dovevo fare... Trappata la Juve, poi, oltretutto. Oltretutto. E io dovevo fare l'alternativa ad Ayrich. Ora, va bene tutto, per carità di Dio. Eri in una grande squadra, ci può stare. Però mi chiamò Mazzone e mi disse Aste, ma che sta a fare lì? Via a giocare con me, con me giochi, sicuro. E allora, io feci il diavolo a quattro per andare via. Però Trappatoni all'inizio si era in posto e non mi voleva lasciare andare via. Perché comunque era un'alternativa valida ad Ayrich. Poi c'era anche Serena, che giocava a destra, che lo potevi spostare sia a destra che a sinistra. Quindi, insomma, potevo giocare... Un po' sottovalutato Serena rispetto alla carriera reale che ha fatto, perché ricordiamoci che ha giocato anche con l'Atletico Madrid... Era un buonissimo giocatore. Io te lo dico. C'ho un bel ricordo. Michele era un giocatore che magari non era molto appariscente, ma molto, molto, molto solido. A livello sia difensivo, magari non ti saltava l'uomo in maniera netta, come poteva fare un Consessao o un Canceschi. Però era un giocatore che era di sostanza. Era molto, molto diligente e intelligente tatticamente. Quindi, cioè, era un po' sottovalutato, come dici te, sì. Assolutamente. Allora, stavamo parlando di Carlo Mazzone, poi tu hai parlato del trap e ovviamente hai citato anche Malesani. Io poi leggevo proprio oggi un articolo che parlava del mister. La cosa che mi dispiace a me personalmente è che sono ormai 5-6 anni che lui è completamente fuori dal mondo del calcio, trattato come l'ultimo degli ultimi quando, a mio giudizio, lui non se lo merita assolutamente. Perché poi stiamo parlando dell'ultimo allenatore italiano che ha vinto la Coppa UEFA con una squadra italiana e soprattutto in pochi lo ricordano, perché poi magari i più giovani non lo sanno. Adesso lo vedono come una sorta di fenomeno da baraccone via social, quando non è assolutamente così, per via di quella conferenza stampa che fece in Grecia quando allenava il Panathinaikos, però lui era stato una sorta di rivoluzionario, perché lui nel suo chievo, nella sua Fiorentina, proponeva un 3-4-3 all'olandese, a te da terzino classico ti trasformai in un'ala sinistra a tutto campo, quindi insomma Malesani sapeva il fatto suo e vederlo bistrattato in questa maniera, ti dico la verità Stefano, sinceramente mi dispiace. Allora, guarda, Malesani non è mai stato una simpatia a livello umano, no? E forse credo che abbia e sta pagando questo, ma ciò non toglie, che comunque le capacità che aveva d'allenatore le ha tuttora, non è che sono svanite, però purtroppo tu mi insegni e lo sai, in questo mondo quando ti relazioni e devi avere a che fare. A volte si è scomodi, perché se uno è antipatico e non sa leccare il sedere a determinati presidenti o a determinate società o addetti a lavori, non si lavora o fai fatica. Purtroppo ci sono dei compromessi da pagare e lui sta pagando secondo me questo, perché comunque è uno che, sì, come dicevi te, va sotto la curva magari a esultare coi giocatori, come si fece anche quando fece con noi ad Udine, perdevamo 2-0, andammo a vincere 3-2 con una rovesciata di battistuta. Io c'ero quella partita, giocavo anche oltretutto, quindi fece il cross che battistuta, la buttò dentro. E ti ripeto, fece tutta la corsa dalla panchina a Udine fino a sotto la curva e lo presero in giro, non ti dico quanto, perché era tutto con queste mani e sembrava, ha delle mani, ha delle pale. Però ti ripeto, come allenatore, secondo me era un buon allenatore, come hai detto te, ha anche ottenuto dei buoni risultati. Purtroppo paga, secondo me, lo scotto che a volte, a dire sempre la verità e comunque a essere sempre troppo schietti, alcuni presidenti non ti prendono a ben volere. Oltretutto poi, in tempi recenti, in molti abbiamo raccontato quella che è stata la storia di Maurizio Sarri come allenatore, perché era partito da dipendente di banca, ma lo ricordo lì in pochi, più o meno la storia di Malesani era analoga, perché lui era un dipendente della Camon, che poi piano piano iniziò questa gavetta come allenatore, partendo dal Chievo fino ad arrivare ai più grandi palcoscenici della Serie A.